Il dado ormai è tratto, dicono da entrambi i lati del PDL. La separazione tra Berlusconi e l'ex Delfino Alfano è un processo irreversibile. E il Consiglio Nazionale di sabato sancirà il primo passo ufficiale. L'ala governativa potrebbe infatti disertare l'appuntamento, visto che all'ordine del giorno c'è solo la relazione del Presidente. Parlerà cioè il solo Berlusconi e si voterà il documento, approvato il 25 ottobre scorso dall'ufficio di Presidenza, che prevede l'azzeramento di tutte le cariche del PDL ed il passaggio a Forza Italia. Se non c'è un dibattito che cosa ci andiamo a fare, si chiede Cicchitto. È una cosa sulla quale stiamo discutendo, anche perché i toni che vengono usati sono tali da creare le condizioni per impedire un dibattito politico normale e sereno. Ma comunque ci rifletteremo in questi giorni. Domani è prevista una riunione degli innovatori che intanto fanno gli scongiuri di fronte all'anatema lanciato da Berlusconi ad Alfano. Finirete come fini la profezia del leader che vuole mettere nell'angolo i seguaci dell'ex Delfino, spaventandoli con le conseguenze politiche della rottura. Le cronache raccontano una telefonata di fuoco fra i due, un retroscena che spiegherebbe poi la scelta del segretario congelato del PDL di chiedere ieri a Berlusconi di confermare il sostegno al governo anche dopo il voto sulla sua decadenza. Richiesta rispedita subito al mittente. Di qui la discesa verso la rottura definitiva che continua tra scambi di colpi al veleno tra le due parti. Se Cicchitto dice di essere dispiaciuto che Berlusconi voglia far cadere il governo facendo vincere gli estremisti, Stefania Prestigiacomo gli risponde che è meglio essere estremisti che attaccati al potere, disposti ad avallare l'onta della decadenza del leader pur di sostenere il governo. Se Formigoni dice che in Lombardia le adesioni al documento degli innovatori sono al 40% dei delegati al Consiglio Nazionale, Maria Stella Gelmini lo bolla di essere un millantatore. Che tristezza Formigoni il 70% dei delegati sta con Berlusconi.